La preoccupazione è tanta perché c'è una struttura così grande che vede tra ospite e dipendenti, ci sono 150 persone che tutti i giorni capite voi e noi c'è il problema quanto potenzialmente può essere complesso per la collettività. Continua purtroppo ad allargarsi il focolaio Covid all'interno della Casa Pia di Arezzo e così sono iniziati i trasferimenti degli anziani. Per garantire ancora di più l'isolamento e il proseguo del loro percorso. Il numero complessivo dei positivi è infatti salito a quota 54, di questi 36 sono ospiti, in una struttura che a pieno regime accoglie 76 degenti. Siamo stati in una Covid free fino adesso, quindi evidentemente i protocolli applicati, il lavoro del direttore e del personale è stato sempre di altissimo livello e con un altissimo livello di attenzione. Purtroppo era un evento che non potevamo prevedere e che non potevamo gestire meglio di così. Gli anziani positivi erano stati immediatamente isolati in un settore della casa di riposo dedicato al Covid e presi in carico dalle unità speciali di continuità assistenziale. Adesso sono scattate le procedure per il trasferimento degli anziani nelle strutture di cure intermedie della ASLA, operazioni che termineranno nella giornata di mercoledì. Noi non siamo una RSA Covid, ovviamente nel protocollo era previsto comunque un inizio di isolamento per i casi che avremmo potuto avere, il protocollo prevedeva anche che in caso di allargamento del numero di positivi fosse destinata un'ala della nostra SRA per l'isolamento, però chiaramente visto il crescere dei casi è stata presa questa decisione che comunque ritengo giusta. 18 invece gli operatori sociosanitari della casa di riposo risultati affetti da Covid-19. I primi giorni in cui sono stati ovviamente i dipendenti, sono rimasti un po' smarriti, poi devo dire che sono rimasto anche io stupito dalla risposta di tutti quanti i nostri operatori sociosanitari, infermieri, animatori, fisioterapisti, in cui tutti hanno contribuito con grande coraggio. Nel frattempo proseguono i tamponi su tutti i residenti della struttura. Gli ospiti che sono al piano terra sono tutti negativi e chiaramente prosegue tutta la nostra opera di tamponi e di monitoraggio per far sì che questo continui ad essere così e speriamo che il peggio ce lo siamo lasciato alle spalle.